Cosa sono le commodity e cosa sono i future? Salve a tutti, Marco Casario qui e oggi ragazzi voglio andarvi a prendere una... a estrapolarvi un pezzetto del webinar che ho ottenuto poco giorni fa proprio dedicato al mondo dello spread trading nel quale ho dovuto necessariamente introdurre, trattandosi di commodity, di spread trading che cosa sono le commodity prime le commodity ovvero le materie prime cosa si intende per materia prima qual è la definizione, perché c'è una definizione specifica in particolare c'è una parola che non per tutti è spesso chiara è la parola fungibile, una materia prima, una commodity deve essere un bene fungibile quindi che cosa vuol dire, che cosa significa e che cosa sono i future e perché la maggior parte delle persone quando fanno riferimento ai future sbagliano perché lo associano ad un mercato dicono il mercato dei future il future non è un mercato, è uno strumento quindi oggi una volta per tutte voglio qui sul canale estendervi questa piccola lezione, veloce lezione su come si definisce una materia prima che cosa sono i future perché i future hanno delle scadenze perché non sono un mercato ma sono uno strumento e come possiamo usarli noi trader per ovviamente guadagnarci quindi vi lascio a questa estrapolazione del video del webinar ragazzi un like se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati noi ci vediamo prestissimo buon trading a tutti ciao e oggi parliamo di commodity spread trading allora come vedete è una definizione composta da tre parole commodity, spread, trading quindi ho pensato bene di impostare le slide analizzando le parole una ad una e quindi partendo da che cosa si intende per commodity allora le commodity in italiano le chiamiamo le materie prime queste sono in inglese la parola commodity sta per la definizione classica è sono beni fungibili e che cosa che cosa vuol dire cos'è un bene fungibile sono quei beni che sono sostituibili in relazione al bisogno che soddisfano ok e che sono soprattutto facilmente stoccabili e conservabili queste sono le caratteristiche che definiscono una materia prima qual è l'esempio più banale che posso farvi ragazzi di commodity? il denaro il denaro è una commodity il denaro è qualcosa di fungibile è qualcosa di stoccabile è qualcosa di conservabile è qualcosa di facilmente scambiabile e quindi diciamo può essere raggruppato in uno standard e questa è la definizione di commodity infatti proprio per queste caratteristiche che vi ho appena detto le commodity sono facilmente scambiabili sui mercati avete già capito che cosa si intende per commodity per materia prima ci sono vari tipi di commodity ovviamente ragazzi in particolare ci sono le hard commodities e le soft commodities quindi le hard commodities sono più precisamente il denaro sono il petrolio e così via le soft commodities sono le granaglie quindi il grano, il mais ma sono anche il bestiame quindi il linogs eccetera quindi diciamo ricordatevi questa classificazione quindi abbiamo parlato di materie prime, di commodity quando parliamo di materie prime affinché le materie prime siano tradabili ovvero noi possiamo andare ad interagire attraverso l'acquisto e la vendita di queste materie prime dobbiamo scomodare tra virgolette i future avrete sentito parlare anche nei miei video su youtube spesso quando ho fatto il video qualche ieri mi sembra sul petrolio e vi ho detto vi faccio vedere il future del petrolio di giugno che cosa vuol dire future? che cosa si intende per future? il future innanzitutto dovete subito capire che è un contratto ok? è un contratto attraverso il quale posso acquistare determinati titoli o merci ad un prezzo che viene subito fissato mentre la consegna e il pagamento avranno luogo ad una scadenza di questo contratto quando vi ho detto vi ho parlato del future del petrolio vi ho detto questo è il future del petrolio con scadenza giugno nel momento in cui io vado ad operare quindi ad aprire un'operazione in vendita o in acquisto quindi io su un future posso aprire posizioni in buy in acquisto posso aprire posizioni in sell in vendita bene ma la cosa importante è la scadenza perché almeno teoricamente ma non vi preoccupate perché non succede più questo con i vostri broker ma teoricamente se io compro ad un determinato prezzo ovviamente una materia prima su un future che ha una scadenza a giugno vuol dire che a giugno quando se lascio scadere il contratto teoricamente la controparte mi invia il sottostante quindi mi invia la materia prima in questo caso il petrolio non so compro due contratti sul future scadenza giugno del petrolio quando scade quel future mi viene inviato l'equivalente in petrolio ovviamente nessuno di noi come trader come investitore si vuole ritrovare la consegna a casa della materia prima giusto a nessuno va che gli arrivi il petrolio gli arrivi l'oro o gli arrivi non so la mucca sotto casa perché ha investito su sulle carni bovine ovviamente nel mondo del trading i broker quasi tutti i broker la maggior parte dei broker non fa la consegna del sottostante semplicemente se scade il contratto vi chiude la posizione in realtà vi dico vi aggiungo un pezzo anticipandovi alcuni concetti e non arrivate mai alla scadenza del contratto ma chiudete sempre prima della scadenza il contratto però adesso mi serve solo farvi capire che cosa sono i future quindi abbiamo dato una definizione una collocazione alle materie prima alle commodity vi ho parlato adesso vi sto parlando dei future che capite bene essere dei contratti con scadenza ok e bisogna anche dire che i future sono derivati fanno parte dei derivati perché derivati come le opzioni no vi ricordate nel webinar scorso per chi ha partecipato vi ho detto le opzioni sono dei derivati perché sono dei derivati perché il loro valore questo è valido anche per i future il loro valore dipende dal sottostante quindi il future dell'oro avrà come sottostante l'oro e il valore del future dell'oro dipenderà dall'oro il future dell'argento del crude oil del petrolio del natural gas dipenderà il suo valore dal suo sottostante attenzione ad una cosa i future sono uno strumento finanziario non sono un mercato a volte sento dire o leggo degli articoli o sento dei dei video che dicono andiamo sul mercato apriamo l'operazione sul mercato dei future ma non esiste il mercato dei future il mercato è lo strumento il future scusate è lo strumento con cui vado ad operare sul mercato esattamente come le opzioni sono uno strumento con cui vado ad operare sul mercato motivo per cui sono derivati altrimenti se fossero stati un mercato non sarebbero stati dei derivati ovviamente no? e allora adesso uniamo questi due concetti che abbiamo che vi ho introdotto qual è la relazione tra futures e commodity e soprattutto perché c'è bisogno dei futures sull'economia perché c'è bisogno di avere dei contratti con scadenze future di questa materia prima nascono storicamente e ragazzi centinaia di anni fa nascono i futures non è qualcosa che è nata negli ultimi vent'anni per esigenze di hedging di questa parola inglese ragazzi mi sentite usarla spesso nel soprattutto quando faccio i video sull'azionario ma anche quando faccio i video sulle opzioni no? e vi dico questa strategia è una strategia di hedging per il mio portafoglio che vuol dire hedging? vuol dire protezione è un meccanismo di protezione quindi nascono i futures servivano alle aziende che lavoravano nel settore delle materie prime che lavorano con una materia prima perché la utilizzano perché la trasformano in qualcos'altro e poi la rivendono e che quindi queste aziende sono soggette alla variazione di prezzo tra il momento di acquisto e il momento della vendita che cosa vuol dire il momento di acquisto e il momento della vendita? vi faccio un esempio perché potrei stare qui a parlare decine di minuti ma poi non farvi capire che cosa intendo quindi vi porto subito un esempio immaginate che voi siete i produttori di corn il corn è una materia prima il corn in inglese è il mais il nostro mais quindi è una commodity perfetto noi siamo un produttore di mais quest'anno faccio la semina e prevedo quanto mais riuscirò a produrre per quest'anno quindi diciamo che so ho un'idea di quanto mais riesco a produrre il problema è che io il mais lo sto seminando oggi ma lo raccoglierò quando? tra 7 mesi 8 mesi non so qual è mi pare che il ciclo di produzione del mais sia tra i 6 e gli 8 mesi non ricordo credo 7 o 8 e quindi c'è un mi esponga ad un rischio qual è il rischio? il rischio è che in quell'anno può succedere qualcosa per esempio che cosa? può succedere che arrivi un 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 tempo quindi dal punto di vista meteorologico il mio raccolto viene rovinato e quindi io avevo pensato di raccogliere tanto mais ne raccolgo molto meno viceversa il prezzo del mais nel momento in cui sono pronto a venderlo per ragioni geopolitiche socio-economiche o banalmente finanziarie il prezzo del mais quando sono pronto a venderlo è inferiore a quello che avevo calcolato come faccio quindi a proteggermi da questa da questi fattori il produttore si copre quindi edging si copre vendendo i future dei mesi successivi di quella materia prima quindi io produttore di mais che cosa faccio vendo i future dei quindi a proposizioni short ragazzi questo vuol dire a proposizioni in sell in modo tale per quali future per i future dei mesi successivi fino ad arrivare ai mesi della vendita e quindi qua ho due scenari che si possono verificare ok quando arrivo alla fine quindi quando ho il prodotto finito e posso venderlo possono succedere due cose se il prezzo del del mais è salito vuol dire che io guadagno sulla produzione del mais perché il mais ha un prezzo maggiore io lo vendo e il prezzo è più alto e quindi guadagno ma perdo sul future ok quindi mi ribilancio in questo modo da una parte guadagno dall'altra perdo secondo scenario il prezzo nel momento in cui il prodotto il mio mais è pronto da vendere se il prezzo è sceso dopo 7-8 mesi che cosa farò perderò incasserò meno dalla vendita del mais ma guadagnerò dalle posizioni in short in vendita che ho aperto sui future ecco che cosa vuol dire hedging ed ecco perché nascono i future i future non nascono per noi trader speculativi che dobbiamo guadagnarci sopra prendo posizioni short e sell no nascono come strumento assicurativo chiamiamolo così per i produttori e le aziende che lavorano nel campo della materia prima e guardate vi faccio un esempio qua questa è una tabellina di un sito che ho preso che solitamente uso il sito ragazzi è investing.com per andare a vedere per esempio quali sono le scadenze di questo mese sulle materie prime ok perché come vi ho detto prima i future che cosa sono sono dei contratti che hanno una scadenza e quindi voi mi potreste chiedere Marco ma io come faccio a sapere questo mese o il prossimo mese o tra sei mesi quale materia prima scade ci sono tantissimi siti che ve lo fanno vedere questo è uno di quelli e poi comincerete ad impararle a memoria queste cose perché adesso vi faccio vedere che c'è una ci sono dei codici per le scadenze dei mesi dei future se voi imparate quei codici sapete esattamente quando ci saranno le scadenze fatto sta che per esempio a maggio del 2020 quindi questo maggio il prossimo mese in particolare guardate la scadenza è maggio 2020 ma l'ultima possibilità di trading sul sul greggio è il 1503 ok cioè questo è stato l'ultimo rollover che c'è stato sul petrolio poi andiamo a vedere che cosa vuol dire rollover però ipotizziamo che la scadenza di maggio che quindi si completerà questa scadenza è di maggio ma l'ultimo giorno per il pagamento è il 21 aprile quindi tra pochi giorni scade la scadenza più vicina del petrolio sul contratto di maggio è il 21 aprile eccola qui vedete petrolio greggio crude oil qui ricordatevi questo CLK0 adesso vi dirò che cosa è questo contratto lo andremo ad analizzare insieme e il mese è maggio non scade questo mese non scade solo il petrolio scade pensate un po' il future di bitcoin anche ok scadenza aprile scade il 24 aprile poi scade il gas naturale poi scade lo zucchero poi scadono i bovini il gasolio l'airbob la benzina la carne di maiale il vix sull'S&P500 e il cacao quindi potete vedere sapere ogni mese quali sono ogni mese con questa tabellina potete andare a chiedere mi fai vedere quali sono i future che scadono a giugno e potete sapere immediatamente le scadenze di ogni future e questa è la tabellina di cui vi parlavo prima ovvero la tabella che vi dice i codici vi ricordate ragazzi guardate questo aspettate che prendo il puntatore esatto vi ricordate quando vi ho detto guardate questo contratto qua questa parte qua vedete questa lettera K ecco questa corrisponde ad un codice che è la scadenza scadenza del mese guardate un po' K corrisponde a maggio questi sono i codici F gennaio G febbraio H marzo G aprile K maggio e così via quindi ci sono le 12 scadenze quindi ognuna per i 12 mesi che corrispondono a 12 lettere questa a un certo punto ragazzi operando sui future le imparerete a memoria e non ci saranno problemi oggi intanto vi metto questa tabellina perché vi metto questa tabellina adesso ve lo spiego prima vi dico che ci sono ci sono vari exchange sui quali poter operare sui future ok questi sono i più diciamo tutti quanti gli exchange ma di questi i più tradati sono il Chicago Board of Trade Chicago Mercantile Exchange il Nibot il New York Board of Trade un altro che userete può essere l'ICE che è l'International Commodity Exchange però ce ne sono altri c'è anche il Kansas City c'è il Minneapolis il Sydney Future Exchange quindi Australia c'è il Paris Bourse Matic che è ovviamente europeo quindi dovete questi sono i mercati quando vi dicevo prima ma i future non sono mercati i future sono strumenti questi sono gli exchange che vi danno la possibilità di operare sui mercati ok e adesso veniamo a diciamo a quella vi ricordate prima quando vi ho detto ricordatevi questo CLK0 perché spesso troverete questa notazione per i future cioè CLM0 che cosa sono che cos'è questa notazione e ora ve lo spiego vabbè spesso non so se vedete mai su riviste o articoli finanziari che magari vi dicono fate il buy di un CLM0 e voi potreste dire cavolo ma che devo fare che roba è questa è semplicissimo buy vuol dire acquistare uno questo è il contratto acquistate un contratto di CL CL è il petrolio ragazzi è il nome in codice diciamo così del crude oil con scadenza M0 quindi M è il mese 0 è l'anno M ragazzi a che cosa corrisponde ve lo ricordate a giugno quindi vuol dire acquistare un contratto del crude oil del petrolio scadenza mese di giugno 0 è l'ultima cifra dell'anno 2020 perché voi potete voi oggi già potreste far trading o aprire una posizione sul future del 2021 del 2022 del 2023 ecco perché è importante dichiarare l'anno e si dichiara sempre l'ultima cifra quindi ricordatevi per tornare a questa vi ricordate a questa definizione qua desinenza CLK0 vuol dire crude oil maggio 0 BTCJ0 vuol dire bitcoin aprile 2020 NGK0 natural gas maggio 2020 e così via ok? quindi avete imparato anche questa questa cosa è un po' Grazie a tutti.